Anche se Dio non esistesse, la religione resterebbe santa e divina. Dio è il solo essere che per regnare non abbia nemmeno bisogno di esistere. Le creazioni dello spirito sono più vive della materia. Amore ha il gusto di prostituzione. Non c'è anzi piacere nobile che non possa essere ricondotto alla prostituzione. In uno spettacolo, in un ballo, ognuno gode di tutti. Che cos'è l'arte? Prostituzione. Il piacere di trovarsi tra la folla è un'espressione misteriosa del godimento della moltiplicazione del numero. Tutto è numero. Il numero è in tutto. Il numero è nell'individuo. L'ebbrezza è un numero. Il gusto della concentrazione produttiva deve sostituire in un uomo maturo il gusto della dispersione. L'amore può derivare da un sentimento generoso, il gusto della prostituzione, ma viene presto corrotto dal gusto della proprietà. L'amore vuole uscire da sé, confondersi con la sua vittima, come il vincitore con il vinto. Eppure, conservare i privilegi da conquistatore. Le volutà di chi mantiene una donna hanno in sé a un tempo qualcosa dell'angelo e del proprietario. Carità è ferocia. Sono perfino indipendenti dal sesso, dalla bellezza e dal genere animale. Le tenebre verdi nell'essere umide della bella stagione. Profondità immensa di pensiero nelle locuzioni volgari. Buche fatte da generazioni di formiche. Aneddoto del cacciatore, sul nesso intimo tra la ferocia e l'amore. Della femminilità della chiesa come ragione della sua onnipotenza. Del colore viola. Amore contenuto, misterioso, velato. Colore da canonichessa. Il preta è immenso, perché fa credere a una quantità di cose meravigliose. Che la chiesa voglia fare tutto ed essere tutto. Una lezze dello spirito umano. I popoli adorano l'autorità. I preti sono i servitori e i settari dell'immaginazione. Il trono e l'altare. Massima rivoluzione. Ebbrezza religiosa delle grandi città. Panteismo. Io sono tutti. Tutti sono me. Credo di aver già scritto nelle mie note che l'amore somiglia molto a una tortura o a un'operazione chirurgica. Ma questa idea può essere sviluppata nella maniera più amara. Anche se i due amanti sono innamoratissimi e colbi di desideri reciproci, uno dei due sarà sempre più calmo e meno ossessionato dell'altro. Uno dei due è il chirurgo o il carnefice. L'altro il paziente, la vittima. Sentite quei sospiri, preludi di una tragedia di disonore. Quei gemiti, quelle grida, quei rantoli. Chi non li ha emessi? Chi non li ha irresistibilmente storti? E che cosa trovate di peggio nella tortura applicata da raffinati carnefici? Quegli occhi stravolti, la sonnambula. Quelle membra in cui i muscoli si gonfiano e si irrigidiscono come sottolazione di una pila galvanica. L'ebbrezza e il delirio, l'oppio nei loro più furiosi effetti. Non vi daranno certo così spaventosi, così singolari esempi. E il volto umano, che Ovidio credeva fatto a riflettere gli astri, ecco, non ha più che un'espressione di ferocia folle. Ovvero si distende in una specie di morte. Perché crederai certo di commettere un sacrilegio, usando per questa specie di decomposizione la parola estasi. Gioco spaventoso, in cui bisogna che uno dei giocatori perda il dominio di sé. Un giorno fu domandato in mia presenza in che cosa consista il più grande piacere dell'amore. Qualcuno rispose naturalmente nel ricevere e un altro nel donarsi. Il secondo dice piacere d'orgoglio. Il primo, piacere d'umiltà. Tutti quegli sporcaccioni parlavano come limitazione di Cristo. Finalmente, salto fuori un impudente utopista che affermò che il più grande piacere dell'amore è di creare cittadini per la patria. Per conto mio, dico che l'unica e suprema volutà dell'amore sta nella certezza di fare il male. E l'uomo e la donna sanno, fin dalla nascita, che il male è fonte di ogni volutà. Quando un uomo s'ammala, quasi tutti i suoi amici hanno il segreto desiderio di vederlo morire. Gli uni per accertarsi che egli aveva una salute inferiore alla loro. Gli altri, per la speranza disinteressata di studiare un'agonia. L'arabesco è il più spiritualistico dei disegni. Il letterato mette in movimento capitali ed ha il gusto della ginnastica intellettuale. L'arabesco è il più ideale di tutti i disegni. Noi amiamo le donne in quanto più ci sono estranei. Amare le donne intelligenti è un piacere da pederastra. Così la bestialità esclude la pederastia. Lo spirito buffonesco può non escludere la carità, ma ben di rado. L'entusiasmo che si volge ad altre cose che ad astrazioni è un segno di debolezza e di malattia. La magrezza più nuda, più indecente della grassezza. Cielo tragico Epiteto d'ordine astratto applicato ad un essere materiale. L'uomo beve la luce con l'atmosfera. Così il popolo ha ragione di dire che l'aria della notte è malsana per il lavoro. Il popolo è adoratore nato del fuoco. Fuochi d'artificio, incendi, incendiari. Se si immagina un adoratore nato del fuoco, un parsi nato, si può creare una novella. Gli errori relativi ai volti derivano dall'eclissi dell'immagine reale prodotta dall'allucinazione che ne trae la sua origine. Conosci dunque i godimenti di una vita aspera e prega. Prega senza requie. La preghiera è riserva di forza. Altare della volontà, dinamica morale. La stregoneria dei sacramenti, igiene dell'anima. La musica scava il cielo. Jean-Jacques diceva di non poter entrare in un caffè senza una certa emozione. Per una natura timida, il controllo alla porta del teatro somiglia un po' al tribunale degli inferi. La vita non ha che un incanto vero. L'incanto del gioco. Ma se ci è indifferente guadagnare o perdere? Le nazioni non hanno grandi uomini che a loro malgrado, come le famiglie, fanno tutti gli sforzi per non averne. Così il grand'uomo, per esistere, ha bisogno di possedere una forza aggressiva maggiore della forza di resistenza sviluppata da milioni di individui. A proposito del sonno, avventura a sinistra di tutte le sere, si può dire che gli uomini si addormentano quotidianamente con un'audacia che sarebbe inintellegibile se non sapessimo che è il risultato dell'ignoranza del pericolo. Ci sono epidermidi da crostaceo con le quali il disprezzo non è più una vendetta. Molti amici, molti guanti. Coloro che m'hanno amato erano persone disprezzate, direi perfino spregevole se ci tenessi a lusingare la gente per bene. Chardin parla latino, pecudesco e locute. Ci voleva una società incredula per mandare Robert Houdin tra gli arabi per distoglierli dai miracoli. Queste belle e grandi navi impercettibilmente cullantisi, tondolantisi sulle acque tranquille, queste robuste navi dall'aria oziosa e nostalgica non ci dicono in un linguaggio silenzioso quando partiremo per la felicità. Non dimenticare nel dramma il lato meraviglioso, la stregoneria è romancesco e ambienti, le atmosfere di cui tutto un racconto deve essere impregnato e metterli in relazione con le sensazioni profonde della cis e dell'oprio. Ci sono follie matematiche e pazzi che pensino che due e due fanno tre? In altri termini, l'allucinazione può, se queste parole non urlano a essere accoppiate insieme, investire le cose di puro raziocinio? Se, quando un uomo prende l'abitudine della pigrizia, della fantasticheria, della fannullaggine, al punto da rimandare continuamente all'indomani una cosa importante, un altro lo svegliasse una mattina a gran colpi di frusta e lo fustigasse senza pietà sino a che, non potendo lavorare per piacere, costui lavorasse per paura. Quest'uomo, il fustigatore, non sarebbe veramente il suo amico, il suo benefattore? D'altro canto, si può affermare che il piacere verrebbe dopo con più giusta ragione che non si dica l'amore viene dopo il matrimonio. Allo stesso modo, in politica, vero santo è colui che fustiga e uccide il popolo per il bene del popolo. quel che è leggermente difforme ha un'aria insensibile e consegue che l'irregolarità, cioè l'inatteso, la sorpresa, lo stupore, sono elemento essenziale e la caratteristica della bellezza. Ho trovato la definizione del bello, del mio bello. È qualcosa d'ardente e triste, qualcosa di un po' vago che lascia libero corso alla congettura. Applicherò, se si vuole, le mie idee ad un oggetto sensibile, per esempio all'oggetto più interessante nella società, a un volto di donna. Una testa seducente e bella, una testa femminea, voglio dire, è una testa che fa sognare a un tempo, ma in modo confuso, di volutà e di tristezza, che implica un'idea di malinconia, di lassitudine, persino di sazietà o un'idea contraria, cioè un ardore o un desiderio di vivere, uniti a un'amarezza rifluente, come se venisse da privazione o disperazione. Il mistero, il rimpianto sono anch'essi caratteri del bello. Una testa virile non ha bisogno di implicare, ben inteso agli occhi d'uomo, se non forse agli occhi di una donna, quell'idea di volutà, che in un volto di donna è una provocazione tanto più attraente quanto più il volto è generalmente malinconico. Ma questa testa conterrà anche qualcosa ad ardente e di triste, bisogni spirituali, ambizioni tenebrosamente represse, l'idea di una potenza crucciosa e inattiva, qualche volta l'idea di un'insensibilità vendicatrice, perché il tipo ideale del dandy non va trascurato in questo argomento. Qualche volta anche, ed è uno dei caratteri più interessanti di bellezza, il mistero è infine, perché io abbia il coraggio di confessare fino a qual punto mi sento moderno in estetica, l'infelicità. Non pretendo che la gioia non possa accompagnarsi con la bellezza, dico che la gioia è uno degli ornamenti più volgari, mentre la malinconia ne è, per così dire, l'illustre compagna, dal punto che non concepisco affatto. Il mio cervello è, forse, uno specchio stregato, un tipo di bellezza in cui non ci sia infelicità. Con queste idee, altri direbbe ossessionato da queste idee, si capisce che mi sarebbe difficile non concludere che il più perfetto tipo di bellezza virile è satana, alla maniera di Milton. Autoidolatria, armonia poetica del carattere, euritmia del carattere e delle facoltà, aumentare tutte le facoltà, conservare tutte le facoltà, un culto, magia, stregoneria evocatrice. Il sacrificio e il voto sono le formule supreme e i simboli dello scambio. Due qualità letterarie fondamentali, sovrannaturalismo e ironia. Colpa d'occhio individuale, aspetto in cui le cose si presentano allo scrittore. Poi, forma di spirito satanica. Il sovrannaturale comprende il colore generale e l'accento, cioè l'intensità, sonorità, limpidezza, vibratilità, profondità e risonanza nello spazio e nel tempo. Ci sono momenti dell'esistenza in cui il tempo e lo spazio sono più profondi e il sentimento dell'esistenza immensamente aumentato. Della magia applicata all'evoluzione dei grandi morti, al ristabilimento e al perfezionamento della salute. L'ispirazione avviene sempre quando l'uomo vuole, ma non sempre se ne va quando vuole, del linguaggio e della scrittura considerati come operazioni magiche, magia evocatrice, dell'aspetto femminile. Gli aspetti seducenti e che fanno la bellezza sono l'aria sazia, l'aria annoiata, l'aria svanita, l'aria impudente, l'aria fredda, l'aria introspettiva, l'aria di dominio, l'aria volitiva, l'aria cattiva, l'aria malata, l'aria da gatto, pueridità non curanza e malizia mescolata insieme. In certi stati d'animo, quasi sovrannaturali, la profondità della vita si rivela tutta intera nello spettacolo, per comune che sia, che si ha sotto gli occhi. Ne diventa il simbolo. Mentre attraversavo i boulevard e affrettavo un po' il passo per evitare le carrozze, la mia aureola si è staccata ed è caduta nel fango del macadamma. Per fortuna ebbi il tempo di raccoglierla, ma un momento dopo si insinuò nella mia mente la malaugurata idea che fosse un cattivo presagio e da allora non mi ha più voluto lasciare. Per tutta la giornata non mi ha dato pace. Nell'atto dell'amore c'è molta somiglianza con la tortura o con un'operazione chirurgica. C'è nella preghiera un'operazione magica. La preghiera è una delle grandi forze della dinamica intellettuale. c'è in essa come una ricorrenza elettrica. Il rosario è un medium, un veicolo e la preghiera resa accessibile a tutti. Il lavoro forza progressiva e accumulativa che frutta interessi come il capitale nelle facoltà come nei risultati. Il gioco anche se diretto dalla scienza forza intermittente per preficuo che sia sarà superato dal lavoro per quanto sia piccolo ma continuo. Se un poeta domandasse allo Stato il diritto d'avere nella sua scuderia alcuni borghesi grande sarebbe lo stupore. Se invece un borghese domandasse un po' di poeta arrosto la cosa sembrerebbe naturalissima. Questo non potrà scandalizzare le mie donne le mie figliuole né le mie sorelle. Talvolta egli le domandava il permesso di baciarle la gamba e approfittava dell'occasione per baciare quella bella gamba in una posizione tale che essa disegnava nettamente il suo contorno contro il sole al tramonto. Micetta Miciotta Micina Gatto mio Lupo mio Scimmiottino mio Scimmiottone Serpentaccio Mio piccolo Scimmiotto Malinconico Simili capricci di linguaggio troppo ripetuti Simili appellativi bestiali troppo frequenti attestano che nell'amore c'è un elemento satanico I diavoli non hanno forme bestiali Il cammello di casotte cammello diavolo e donna Un uomo va al tiro a segno accompagnato dalla moglie prende di mira una pupattola e dice a sua moglie faccio finta che sia tu chiude gli occhi e abbatte la pupattola poi baciando la mano della sua compagna angelo mio come ti ringrazio della mia abilità quando avrò ispirato il disgusto e l'orrore universali avrò conquistato la solitudine questo libro non è fatto per le mie donne le mie figliuole le mie sorelle di questa roba ne ho poca ci sono epidermidi da crostaceo con le quali il disprezzo non è più un piacere molti amici molti guanti per paura della scabbia coloro che mi hanno amato erano persone disprezzate direi perfino spregevoli se ci tenessi a lucingare la gente per bene Dio è uno scandalo uno scandalo che frutta non disprezzare la sensibilità di nessuno la sensibilità di ognuno è il suo genio ci sono due soli luoghi dove si paga per avere il diritto di spendere le latrine pubbliche e le donne per mezzo di un concubinato ardente si possono indovinare le gioie di due giovani sposi gusto precoce delle donne io confondevo l'odore della pelliccia con l'odore della donna mi ricordo infine amavo mia madre per la sua eleganza ero dunque un dandy precoce i miei antenati idioti o maniaci in appartamenti solenni tutti vittime di terribili passioni i paesi protestanti mancano di due elementi indispensabili alla felicità di un uomo ben educato la galanteria e la devozione il miscuglio del grottesco e del tragico è piacevole allo spirito come le dissonanze agli orecchi sazi nel cattivo gusto c'è ed inebriante il piacere aristocratico di non piacere la Germania esprime il fantasticare per mezzo della linea come l'Inghilterra per mezzo della prospettiva nella genesi d'ogni pensiero sublime c'è una scossa nervosa che si fa sentire nel cervelletto la Spagna mette nella religione la ferocia naturale dell'amore perché i democratici non amano i gatti è facile indovinarlo il gatto è bello rivela idee di lusso di pulizia di volutà eccetera darsi a Satana che cosa significa che cosa c'è di più assurdo del progresso dato che l'uomo come è provato dalla realtà quotidiana è sempre simile e uguale all'uomo cioè sempre allo stato selvaggio che cosa sono i pericoli della foresta e della prateria a confronto degli urti e dei conflitti quotidiani della civiltà circuisca la sua vittima sul boulevard o trafigga la sua preda in foreste sconosciute l'uomo non è forse l'eterno uomo ossia il più perfetto animale da preda si dice che io ho trent'anni ma se ho vissuto tre minuti in ogni minuto non ne ho novanta non è il lavoro il sale che conserva le anime mummificate esordi ad un romanzo cominciare un soggetto non importa dove e per desiderio di finirlo esordire con bellissime frasi io credo che l'incanto infinito e misterioso che nasce dalla contemplazione ad una nave e soprattutto ad una nave in movimento deriva nel primo caso dalla regolarità e dalla simmetria che sono uno dei bisogni primordiali dello spirito umano al pari della contemplazione e dell'armonia e nel secondo caso dalla moltiplicazione successiva e dal generarsi di tutte le curve e figure immaginarie prodotte nello spazio dagli elementi reali dell'oggetto l'idea poetica che emerge da questa operazione del movimento nelle linee è l'ipotesi di un essere vasto immenso complicato ma euritmico di un animale pieno di genio che soffre e sospira tutti i sospiri e tutte le ambizioni umane popoli civili che parlate sempre scioccamente di selvaggi e di barbari presto come dice D'Auerville non varrete nemmeno più abbastanza da essere idolatri lo stoicismo religione che ha un solo sacramento il suicidio ideare una trama per una buffonata lirica o fiabesca per pantomima e tradurla in un romanzo serio sommergere tutto in un'atmosfera anormale e sognante nell'atmosfera dei giorni solenni che sia qualcosa di cullante e anche di sereno nella passione regioni della pura poesia commosso al contatto di quelle volutà che somigliavano ai ricordi intenerito al pensiero ad un passato male impiegato di tante colpe di tante dispute e di tante cose da nascondere reciprocamente egli si mise a piangere e le sue lacrime calde corsero nelle tenebre sulla spalla nuda della sua cara e sempre attraente amica e la trasalì si sentì anch'essa intenerita e commossa le tenebre salvaguardarono la sua vanità e il suo dendismo di donna frigida quei due esseri decaduti ma che ancora soffrivano del loro residuo di nobiltà si avvinsero spontaneamente confondendo in una pioggia di lacrime e di baci le tristezze del loro passato con le incertissime speranze dell'avvenire forse mai per loro la volutà fu dolce come in quella notte di malinconia e di carità volutà satira di dolori e di rimorsi attraverso le tenebre della notte egli aveva guardato dietro di sé negli anni profondi poi si era gettato fra le braccia della sua colpevole amica per ritrovargli il perdono che le concedeva l'uomo cioè ognuno è così naturalmente depravato che soffre meno dell'abbassamento universale che dell'istituzione di una gerarchia ragionevole il mondo sta per finire la sola ragione per la quale potrebbe durare è che esiste com'è debole questa ragione paragonata a tutte quelle che annunziano il contrario e specialmente quest'altra che ha ormai da fare il mondo sotto il cielo perché supponendo che continui ad esistere materialmente sarebbe poi un'esistenza degna di questo nome e del dizionario storico non dico che il mondo sarà ridotto agli espedienti e al disordine ridicolo delle repubbliche dell'america del sud e forse anche noi ritorneremo allo stato selvaggio e che andremo a cercarsi il cibo col fucino in mano attraverso le rovine erbose della nostra civiltà no queste avventure presupporrebbero ancora una certa energia vitale ecco delle età primitive nuovo esempio e nuove vittime delle inesorabili leggi morali periremo per colpa di ciò di cui abbiamo creduto vivere la meccanica ci avrà talmente meccanicizzati il progresso avrà così bene atrofizzato in noi tutta la parte spirituale che nulla delle fantasie sanguinarie sacrileghe o antinaturali degli utopisti potrà essere paragonato ai suoi risultati positivi io chiedo ad ogni uomo che pensi di mostrarmi che cosa sussista della vita della religione credo inutile parlare e cercare i residui già che darsi la pena di negare Dio è in questo caso il solo scandalo la proprietà era virtualmente scomparsa con la soppressione del diritto di primogenitura ma verrà il tempo in cui l'umanità come un orco vendicatore strapperà l'ultimo brandello a coloro che credono di essere legittimi eredi delle rivoluzioni e nemmeno questo sarà il male supremo l'immaginazione umana può concepire senza troppa fatica repubbliche o altri stati comunitari degni di qualche gloria quando siano governati da uomini consacrati da certi aristocratici ma la rovina universale o il progresso universale poco ne importa il nome non si manifesterà specialmente per mezzo di istituzioni politiche avverrà attraverso l'avvinimento dei cuori debbo dire che quel po' di politica che resterà si dibatterà penosamente fra le strette dell'animalità generale e che i governi saranno obbligati per reggersi e creare un fantasma d'ordine a ricorrere a mezzi che farebbero fremere la nostra umanità presente pur così indurita allora il figlio fuggirà la famiglia non a 18 anni ma a 12 emancipato dalla sua ingorda precocità la fuggirà non per cercare avventure eroiche ma per liberare una bellezza prigioniera in una torre per non immortalare una soffitta con sublimi pensieri per non iniziare un commercio per arricchirsi e per far concorrenza all'infame papà fondatore e azionista ad un giornale che diffonderà ai lumi e il quale farà considerare le siecle di allora come un fautore della superstizione allora le erranti le spostate quelle che hanno avuto qualche amante e che talvolta vengono chiamate angeli a ragione e in omaggio alla storditezza che brilla luce del caso nella loro esistenza logica come il male allora esse dico non saranno più che spietata saggezza saggezza che condannerà tutto forché il denaro tutto anche gli errori dei sensi allora quel che somiglierà alla virtù che mai dico tutto quel che non sarà più l'ardore per Pluto sarà considerato ridicolaggina immensa la giustizia se in quell'epoca fortunata potrà ancora esistere una giustizia farà interdire ai cittadini che non sappiano far fortuna la tua sposa o borghese la tua casta metà la legittimità della quale fa la tua poesia introducendo ormai nella legalità un'infamia irreprensibile custode vigile e amorosa della tua cassaforte non sarà più che l'ideale perfetto della mantenuta tua figlia con una nubilità infantile sognerà in culla di essere venduta per un milione e tu stesso borghese meno poeta ancora di quanto oggi tu non sia nulla ci troverai a ridire non rimpiangerai nulla perché ci sono cose nell'uomo che si rafforzano e prosperano a seconda che altre si attenuano o scemano e grazie al progresso di questi tempi nelle viscere ti resteranno solo gli intestini quei tempi sono forse molto vicini chissà che non siano già venuti e che l'espessimento della nostra natura non sia il solo ostacolo che ci impedisca ad apprezzare l'ambiente nel quale respiriamo quanto a me che mi sento talvolta ridicolo come un profeta so che non troverò mai in me la carità di un medico perduto in questo mondaccio urtato dalle gomitate delle folle sono come un uomo spossato che veda dietro a sé negli anni profondi solo delusione e amarezza e davanti solo una tempesta che nulla racchiuda di nuovo né insegnamento né dolore la sera in cui quest'uomo ha rubato al destino qualche ora di piacere cullato nella sua digestione dimentico per quanto è possibile del passato contento del presente rassegnato all'avvenire inebriato del suo sangue freddo e del suo dendismo orgoglioso di non raggiungere la bassezza di coloro che passano dice a sé stesso contemplando il fumo del sigaro che importa dove vadano queste coscienze credo ad essermi lasciato andare a quel che le persone del mestiere chiamano un herdevre tuttavia lascerò scritte queste pagine a documento della mia collera la mia collera Grazie a tutti